Appuntamento con il Vangelo in piazza, grazie all'MGM, il Movimento Giovanile Missionario, che sabato pomeriggio ha portato questa iniziativa in Piazza della Libertà a Roseto degli Abruzzi. Maggiori dettagli sull'appuntamento ce li ha forniti l'organizzatore Mario Nunez. Ormai sono cinque anni che facciamo questa esperienza, portiamo Gesù in piazza e non per moda, ma per mandato missionario. Questa è la giornata missionaria mondiale dal titolo Vangelo senza confini. E quale miglior cosa? Di andare in piazza, di uscire dai confini della chiesa per portarlo nel luogo dove molti giovani si incontrano tutti i sabati, a volte senza sapere cosa fare. L'abbiamo fatto con alcuni modi, con la musica, giovani gruppi rossetani che si esibiscono, con delle immagini della missione che scorrono sul marchischermo e poi con il commercio quest'olidale che è appunto una concretizzazione di questa missione che cerca di dare anche visibilità agli ultimi e ai più bisognosi.